Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un libro per bambini e ragazzi a partire da 12 anni di età, che mostra come la creatività e la passione possano cambiare il modo in cui ci si approccia allo studio e alla conoscenza. Il racconto evidenzia il potere della fantasia nel rendere vive e vicine le storie del passato, facendoci riflettere su quanto sia importante trovare modi nuovi e coinvolgenti per imparare. Il libro incoraggia a guardare oltre la superficie dei fatti storici e mitologici e a entrare nel cuore delle narrazioni, sentendosi parte di esse, trasmettendo il messaggio che l'apprendimento può essere sia divertente che profondo. La trama del libro Radio Omerica, tutta l'Iliade, minuto per minuto dello scrittore Daniele Bello e illustrato da Rosaria Trivisonne, pubblicato dalla casa editrice Astro, è la seguente. Il collettivo studentesco di un liceo classico vuole aprire una radio. Ma a certe condizioni, una parte dei programmi deve riguardare materie di studio. L'idea è quella di puntare sulla mitologia greca, un argomento che piace a tutti, avendo inviati speciali dalla Piana di Troia e una cronaca indiretta. La fantasia dei giovani prende il sopravvento e la guerra di Troia non è più schiacciata dalle lezioni ascoltate noiosamente, ma vissuta momento per momento dal di dentro, dal campo di battaglia, attraverso la cronaca degli inviati. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.